Siamo qui a Vertova perché dobbiamo parlare di un problema importante legato alla squadra della Vertovese che peraltro quest'anno festeggia i cent'anni. Purtroppo la prima squadra non giocherà le proprie partite in casa a Vertova ma dovrà esiliare a tutti gli effetti a Cologna Orsirio. Come mai? Questo ormai è un po' di tempo che stiamo cercando di risolvere questo problema. Abbiamo pensato al campo sintetico, abbiamo pensato di ristrutturare quello che naturalmente come tutte le cose non è una cosa pronti via. Ci stiamo pensando ma il problema principale qual è? Avendo sei squadre del settore giovanile, la prima squadra che fa l'eccellenza, avendo tutte queste strutture e non avendo una struttura principale dove tu puoi giocare, allenarti, abbiamo dovuto cercare di piazzare le squadre del settore giovanile, di piazzare la prima squadra che si sta allenando già a Bagnatica, abbiamo trovato la soluzione con Bagnatica, poi in qualche modo sono burocraticamente successe le cose che non siamo riusciti a concludere e abbiamo dovuto andare a Cologno. Ma solo esclusivamente perché, penso che sia una cosa che dispiace tantissimo alla società, solo perché a livello logistico, a livello strutture, noi non possiamo giocare con sei squadre, sette squadre con la prima squadra sul campo di Vertolo. Cosa avete fatto? Avete fatto qualche proposta? C'è qualche proposta anche da parte del Comune? Allora, col Comune si è iniziato un anno e mezzo fa, proponendo anche a parte della proprietà di un investimento anche importante, col Comune così, alla fine, oggi come oggi, il Comune si è dato da fare, abbiamo portato avanti dei progetti assieme e da ormai una settimana, dieci giorni, c'è a tutti gli effetti un progetto per poter fare il sintetico a Vertolo. Le tempistiche? Le tempistiche, mi fai una domanda da un milione di dollari. Oggi c'è il progetto effettivo, i primi bandi che usciranno, se saranno bandi fatti in un determinato modo, il Comune ci ha promesso che farà di tutto per poter realizzare questo campo sintetico. Quindi siete fiduciosi? Io sono contento già che ci sia questa proposta, penso che se il Comune dovesse riuscire a fare questa cosa, al di là del calcio e di altre cose, penso che sia una cosa più importante, sia per il Paese di Vertolo che per tutta la comunità. Esatto, lo si deve al Paese di Vertolo, lo si deve alla media valle seriana e soprattutto al calcio di questa valle. Il calcio in valle è un bel calcio perché tutti lo vogliono fare, purtroppo le strutture sono quelle che sono, le valli nel calcio sono sempre quelle più penalizzate. Oggi a Vertolo fare calcio non è semplicissimo, abbiamo tante squadre vicine, i numeri dei ragazzi, anche per il settore giovanile, di qualità diventa sempre più difficile perché meno numeri hai, meno qualità avrai. Si cerca in tutti i modi perché alla base c'è la passione e penso che a Vertolo, grazie alla famiglia Guerini, spero che si possa continuare su questa falsariga e fare l'eccellenza in un determinato modo e costruire qualcosa sotto per poter mandare qualche ragazzino tutti gli anni nella nostra prima squadra. Grazie. Grazie. Grazie.